Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Ghostwire Tokyo bene andiamo a vedere questo santuario questo jizo cos'è cosa non è perché sono curioso questo rosso che ci ha fatto scoprire grazie di aver pregato al santuario ok oh qui c'è una sporta cercherò di prendere un po' tutto però molte cose visto che si rifanno è successo qui allora cagnolino una sportina perfetto questo è impazzito e ho finalmente un po' di stat beh comunque qua dovevamo andare devo prendere l'abilità che lo stato mi fa andare più veloce perché sennò facciamo notte qui perfetto e questa è la statua oh ecco cos'era con la statua adesso ho capito ho fugato il mio dubbio che avevo prima ok quindi ci sono stati che aumentano anche il fuoco una cosa molto interessante allora c'è altra roba qui che vorrei prendere mi fai andare no ci arrivo di là beh che domande no di qua ok ok allora salviamo perché non voglio fare cacate tanto le farò sicuro e vediamo come fare qua ok e qua mi sembra di essere già venuto e vedrò che è morto perché sono forti e sono tanti soprattutto che lì c'è della roba perché c'è tutte cose che sicuramente qui è interessante venire però bisogna anche andare un po' cauti non è che si può sempre andare devo dare quell'abilità vediamo insieme che ci permette di andare in step più veloce estenderaggio no questo è molto interessante oddio sono andato ancora sbagliato velocità di movimento da accovacciato aumenta ok vai perfetto fa parire no è tutto mi interessa ok così almeno se no sembra utile stiamo lenti come la diarrea qua ok come li prendo alla sprovvista questi ok sono sicuro che un metodo c'è ok magari se spengo la luce forse ce la facciamo meglio cosa dite no ok perfetto bellissimo e dai lo stasce ce l'abbiamo usiamo ok lei ci ha quasi visto ok non ci ha più visto devo prenderla molto alla larga ok siamo cicconati oh intanto c'è un sacchetto che prenderemo i tiri perfetto e vediamo se riusciamo a andare di qua ce l'abbiamo lo stealth cavolo usiamo sempre andare l'uso duro so che io non ho più visto dove lei ok ce n'è più di una eh sarà divertente ok perfetto devo capire dove sono scusate ah qui c'è anche un un flusso che dopo vedremo ma prima voglio fare un po' di pulizia e salviamo perché tanto cacate le farò e quindi aia che cazzo ho fatto ok ok chi si lo so ah vabbè una ok andata beh è andata abbastanza bene so di saranno ancora da fuori ok perché qui c'è ancora tanto da fare ok vai qua grazie esploriamo esploriamo perché c'è tanto da fare qui sono abbastanza sicuro poi c'è piano di sopra insomma c'è tanto adesso siamo anche un po' più veloci accovacciati devo fare con la luce là fuoco fa 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 ok ok vediamo ok vai 97 è un po' magra come cosa però che sembra che qua di sotto sia abbastanza tranquillo perché sono di sopra quindi andiamo a vedere il fuoco fa l'auto se non mi succede qualcosa dove cazzo era eccolo qui esamina ma questa è la mascotte di shibuya shibuya amaci oh graffiti puoi trovare alcuni graffiti caratteristici di sparsi per shibuya ogni volta che li trovi uno terai adesivo che può essere usato ma questo è interessante perché grazie a questo si non mi interessa la mappa grazie grazie a questo è perché questo non l'abbiamo ancora fatto questo appartiene a questo peccato devo trovarlo ancora qua il coso il ah c'ho anche i taluki quanta roba c'è qui vabbè comunque sia adesso andiamo al piano di sopra vediamo un po' se ci riesco ad andare a questo piano di sopra a capire come è andrivarci allora eh percepisco una strana energia fantastico magari una salvata se percepisce questa strana energia se la senta ridiculata qui eh che cazzo ho fatto non so un certo salito vero? no lui percepisce una strana energia no non riesco a salir da qui ci sarà un altro metodo quindi lo cerchiamo andato corriamo non c'è nessuno allora qua si sale e qua si sale devo capire solo come ok e siamo al piano di sopra perfetto andiamo a chi c'è sono ancora più in alto loro e mi va bene tanto noi prendiamo siamo quasi pieni comunque qui vicino spero ci sia un rifornimento assorbi siamo pieni 102 effettivamente non c'è tanto da assorbire perché ne vedo uno solo però vorrei vedere se troviamo anche una cosa da svuotarci eh non c'è comunque spero non ci ho ancora fatto caso ma spero che una volta un santuario un santuario in alto e non lo vedo già più come è possibile eccolo c'è un santuario quindi devo per forza salire eh per salire in teoria basta andare da qua e ci saliamo che strano un santuario qui ok posto no mi ha visto quanto cazzo è forte sono veramente una pippa con questi questa alcuni mi devastano alcuni mi devastano non è molto chiaro ok perfetto ok vediamo dove è sto santuario allora questi non possono darci una mossa sì ecco uno è qua però mi sa che è un altro io ne vedevo uno qua sopra esatto è là sopra è proprio qua più o meno come me la sfango ah interessante non ce la faccio è una bella situazione di merda perché io qua volevo tornarci allora vediamo se riesco a prenderlo da qui io non capisco perché non me la faccia prendere qui sta facendo spiegare solo munizioni niente per lui è blocco quindi niente da fare ah che bello ah che bello vabbè dai ci riusciamo per carità però è proprio da stronzi smettila ah perché qui c'è anche la nebbia eh vabbè il problema ok oh porca vacca questo posto è inquietante come ogni altro posto niente è proprio da stronzi eh e niente io adesso ho salvato per carità però proprio da stronzi ok ce l'ho fatta ok perfetto vai ok arrivo signore non si agiti ah questo è l'ombrellaio ok calma eh adesso sono sicuramente morto ok l'ombrellaio è andato che è andato aia ok ho ripreso un po' signora salve ok altri non ce ne sono altri non ne vedo altri di qua non lo vedo ragazzi scusate mi sarò cieco io cosa molto probabile però non lo vedo quindi andrei di sopra ah qua c'è la nebbia ah sono questi io l'ho preso ok sembrerebbe a posto allora qua abbiamo un piccolo problema non abbiamo più da fare i talismani allora calma perché ce l'abbiamo fatta poi torniamo a questo qui non possiamo andarci e qui c'è ancora qualcuno che non ah c'è un altro albero ok l'ho visto vediamo dov'è eccolo ma guardate dove l'ha messa e niente ok e niente peccato ci ho sperato ci ho sperato ci ho provato ci ho provato dai potete biasimarmi ok adesso mi soccro ovviamente di salvare e a parte ok vai vabbè qua siamo messi abbastanza in una bella situazione vabbè grazie eh signor strozio ok a parte quello ok ok così in genero e adesso per questo usiamo questo vai ok prossimo perfetto andata adesso è andato molto meglio rispetto a prima sapevo cosa aspettarmi e questa è andata allora adesso che so cosa aspettarmi sto un po' più attento per qua è che non si vede un cazzo è proprio brutta la situazione ok io non lo vedo l'albero eccolo ma guardate tuo cazzo l'ha messo allora calma posso salvare facciamo così vai non insistere allontanati lo so però ce l'ho qua come fai ok perfetto però la nebbia non si è dissolta che strano voglio capire questa cosa scusatemi ok siamo salvi adesso io vorrei fare una cosa vorrei mettere un punto qua è purtroppo più o meno qua da adesso per ritornarci poi perché adesso voglio assolutamente rigenerarmi no rigenerarmi ruotarmi ok devo trovare un cacchio di spostamento di come si chiama di o questa e quella chi cazzo è due addirittura un bel casino c'è ma io i casini riesco se ti metterci da tutti i piedi ok ok l'ho stunnata ma non uccisa ok vai ok dov'è l'altra qua ok e non è facile ciavacca non è difficile devo solo capire come prenderla eccola ok mamma mia è stata tremenda una cazzo di cabina se la trovassi non mi dispiacerebbe allora perché questa è zona nuova non esplorata fatevi vedere quindi io se andassi diritto per diritto la troverai la cabina a un certo punto mamma mia tremendi tremendi devo migliorare alcune abilità assolutamente perché se no qui siamo missi male allora magari dopo signore ok quanto manca la cabina non la vedo poco ok prendiamo cabina sto arrivando è questa ah mi fa piacere e anche questa è andata ma ok non ho capito assolutamente a cosa si riferisse però sono contento che l'abbia fatto ok cabina perfetto e qui ci facciamo un fumo di soldi e anche ora e anche il livello così ci rigeneriamo 3500 ne abbiamo abbiamo tanti e adesso vado a medicarmi però 7000 abbiamo fatto il livello perfetto è un po' più forte di prima eh speriamo perché qui sono un po' nella merda allora stavo dicendo dov'è è tutto dritto per qui ok andiamo di qua io guardo intanto magari qualcosa trovo effettivamente ce n'è di roba però di qua non ci posso arrivare adesso ok ci guardo guardo perché tanto le cose le facciamo insieme non vi preoccupate c'è la nebbia non posso farla non posso resistere a lungo devo capire come togliere la nebbia anche dopo che pulire il santuario è l'unica allora di qua così ciucciamo sia di sopra che di sotto perché c'è tanto da fare allora qua siamo di sopra però siamo anche qua vediamo se c'è qualcosa non c'è niente andiamo eccoci qua ok possiamo ciucciare grande vai ora sei salvo ah ce n'erano parecchi poi vediamo un po' qui c'è un altro albero no è un albero normale adesso qui ciucciamo adesso mettimi in salvo qui vai perfetto vai ottimo li abbiamo ciucciati tutti senza cesi problemi ci hanno visti però li ho ciucciati quelli che ho ciucciati adesso dobbiamo andare solo di sopra tanto questi non ci sedono e qui si sono rifatti com'è possibile che si rifacciano se si rifanno sempre siamo nella merda se si rifanno sempre siamo nella merda ok che si sia più forti più forti ma se si rifanno sempre e dai però anche i body block ok e niente va che spinto si però non è molto giusto che io li ho mattati tutti prima questi sono anche rifatti signorina la mutanda lo cazzo non era nei miei piadi oh cazzo ok questo non me l'aspettavo ok adesso possiamo andare di sopra però ripeto mi sta un po' sul cazzo perché io li avevo già uccisi e questi si sono rifatti allora vediamo come salire che non mi ricordo più c'era un modo per salire di qua se lo ricordo malo e niente continuano ad esserci è un bel problema questo ok allora stavo dicendo facciamo così per salire c'era un modo io non ricordo più quale sia scusate ma proprio è un cazzo di casino qui sto posto allora di qua si si ho capito rilassati ed era qua e poi da qui dovremmo vedere già sono di sopra ok e di sopra si andava di qua perfetto tutto chiaro ok era lì benissimo non dovrebbe esserci nient'altro vedete che non si sono rifatti tutti che strano vai e questa è fatta mamma mia abbiamo assorbito anche questi spiriti qui è meglio non ci andiamo più e guardiamo la mappa un attimo allora togliamo l'indicatore e ci ritorneremo per il resto ci sono rimaste solo le richieste e la missione principale perché a meno che non trovi in qualche modo per trovare qualcuno è poi qua che è una zona troppo impervia allora mi teletrasporterei qua qua no scusate e nel prossimo episodio vediamo come riuscire a prendere gli altri cose da consegnare e poi mi sono anticipato quindi ragazzi come al solito vi invito anche un commento mi spiace fammi sapere cosa ne ho pensato una saluta una saluta una saluta ciao